Notizia di ieri, Tiago Motta telefona a Di Lorenzo. Beh, non è una gran notizia, direbbe qualche d'uno. La notizia sta nel sottotitolo. Di Lorenzo si sta disponibile a giocare la Juventus. Perché è una notizia? Beh, intanto perché Di Lorenzo è capitano del Napoli e la Juventus è la squadra più odiata dai napoletani, quindi ha buttato un po' di sale sulla ferita il ragazzo. Quindi, insomma, partiamo bene. Comunque, dovremmo tornare indietro qualche giorno, ovvero quando, nelle ultime partite di campionato, Di Lorenzo, davanti ai giornalisti, dichiara che a Napoli ci vuole più giocare. Per quale motivo? Non lo so, non ce l'ha detto, però immagino che sia uno dei tanti, no? Vuole prendere più soldi, vuole cambiare squadra per andare in una squadra dove lo valorizzano di più, vuole cambiare i tifosi, vuole cambiare la città, vuole farsi i cazzi suoi, non lo so. In qualche modo ci sarà un motivo, no? Però, insomma, il ragazzo decide questa cosa qui. Il Napoli interviene subito in maniera decisa, mi verrebbe da dire, dicendo che il giocatore è a contratto con il Napoli fino al 2028, quindi non deve rompere le balle, fondamentalmente. Poi interviene anche il procuratore dicendo che i contratti, sì, sono una bella cosa, però valgono fino a mezzogiorno, perché si possono cambiare, si possono annullare, si possono fare tante cose con i contratti. E quindi che se il giocatore vuole andare via sarebbe bene che venisse accontentato, anche perché, da quello che so, il procuratore di Di Lorenzo ha un buon rapporto con quello che è la società Napoli. Quindi lì si apre poi tutta una discussione, ci sono tantissimi tifosi, ma anche e soprattutto giornalisti, che parlano di Napoli che bombardano il giocatore. Nel momento in cui salta fuori che il giocatore interesserebbe la Juventus, ecco, ho visto delle reazioni decisamente scomposte da diversi giornalisti. Sto parlando di giornalisti, non di tifosi, eh, che saranno pure tifosi del Napoli. Però, insomma, se sei giornalista dovresti seguire una certa etica. Quindi hanno bombardato il ragazzo, gli hanno detto di tutto e di più, e quindi, poveretto, probabilmente se prima voleva andare via al 90%, adesso vuole andare via al 120%, perché, insomma, gli hanno detto veramente ogni brutta cosa. La realtà dei fatti è che, però, se tu sei una squadra e vuoi che i tuoi giocatori giochino al 100%, forse anche di più, soprattutto se c'è il conte come allenatore, che è uno che spreme i giocatori come se fossero dei limoni, è chiaro che devono essere motivati. Se non sono motivati, cosa li tieni a fare, mi verrebbe da dire. Perché se uno vuole andare via, la cosa migliore per la squadra è cercare di incassare più soldi possibili e, insomma, sostituirlo nel modo migliore. Può fare questo, perché se lo tieni succede che il giocatore gioca male, perde di valore, tu perdi magari un giocatore essenziale in una fascia di campo che magari non hai nessun altro, quindi il rischio è che il danno venga ricepito da tutti e due, sia dalla squadra che dal giocatore. Quindi in questo momento cosa succede? Che De Laurenti subito era sbottato, dicendo che non sarebbe mai andato via, eccetera, eccetera. Poi, date l'esistenza sia del procuratore che del giocatore, ha deciso di fare un prezzo e il prezzo di Di Lorenzo è diventato 55 milioni, se non di più. Allora, il valore attuale considerato da Transfermark di Di Lorenzo è 15 milioni, insomma, siamo un po' lontani, no? È vero che lo vuole vendere alla Juventus e quindi punterà sicuramente al top, però è anche vero che non c'è più paratici alla Juventus, c'è Giuntoli. Paratici probabilmente dovrebbe darti 60, così per accontentarti, non farti brontolare più di tanto, ma la realtà dei fatti è che, come ha fatto notare, Giuntoli è un'altra persona, è una persona che guarda bene dove mette i soldi e meno male, perché, insomma, è vero che non sono suoi, però, insomma, se li sbatte nel eccesso non è mai una cosa buona, anche perché quando voleva arrivare a Calafiori, Calafiori, insomma, un buon giocatore, 22 anni, insomma, buona prospettiva, però il Bologna, che l'ha comprata 4 milioni, ne voleva 50, siamo ben lontani da questo prezzo, Transfer Market su Calafiori dice che vale 30 milioni, non 50, da 30 a 50 sono 20 milioni, è vero che vuoi fare dei soldi, vuoi fare da plus valenza, ma da 4 a 30 già ci sono 26 milioni di plus valenza, che non è male, insomma, è una bella plus valenza per un giocatore che è arrivato due anni fa, mi pare, a Bologna, che non se lo cagava nessuno e a un certo punto non lo voleva nessuno, quindi insomma, un bel affare l'hai fatto, poi c'è ancora Zier, che c'è insomma anche altri giocatori da vendere, quindi per far cassa non c'hai bisogno solo di lui, quindi in questo caso abbiamo due proposte decisamente molto alte, cosa succede? Che Chiesa, è un problema invece della Juventus, che è a fine contratto, non ha rinnovato, mi dispiacerebbe tantissimo vederlo andare via, ma è anche vero che se non vuole rinnovare e non vuole più stare a Torino, non è che sono uno di quelli che lo tiene per forza, quindi l'idea è di fare lo scambio di Lorenzo con Chiesa, però c'è un però, nel senso che di Lorenzo è un terzino destro, e quindi insomma è un ruolo che tutto sommato ce ne sono, i terzini destri, di buona qualità, mentre Chiesa è un ottimo esterno destro con propensione al gol, che è vero, che ha dato molto poco negli ultimi anni, non ha dato il 100%, però è un giocatore che sotto la guida di Conte potrebbe veramente dare tanto di più. È proprio per questo che la Juventus ha chiesto un indennizzo per fare lo scambio, e mi sembra anche giusto, insomma, a prescindere che di Lorenzo ha 30 anni e Chiesa ha 26 anni, quindi sono 4 anni di differenza che non sono pochi, soprattutto per giocatori che corrono, che sono i ruoli dove bisogna correre. In più, insomma, di Lorenzo a livello di valore e di mercato è a 15, mentre Chiesa è a 35. Io credo che la Juventus almeno 20-25 milioni le debba chiedere per lo scambio. Poi non so come andrà a finire, però sono soddisfatto di pensare che questo affare lo gestisca Giuntoli, che non è certamente Paratici, che non è neanche quello che c'era dopo ma lascia stare. E quindi conosce l'ambiente Napoli, conosce De Laurentiis, conosce il giocatore, quindi è facile che ce lo porti per una cifra adeguata, almeno lo spero. Detto questo, insomma, speriamo che tutto vada bene, insomma, che sia contenti i giocatori più possibili, perché la prima cosa da fare è quella di costruire una squadra di giocatori motivati, perché se non c'è i giocatori motivati e c'è dei giocatori che giocano solo perché hanno il contratto, secondo me non vai molto lontano. Detto questo, penso di aver detto tutto, aspetto i vostri commenti e mi piace, perché sono molto importanti al video. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!